La cosa bella che ci tengo a dire è che prima della partenza e durante il viaggio abbiamo parlato non solo di questa bellissima giornata della quale dobbiamo ringraziare il taxi Roma Capitale ma soprattutto Salva Mamme che ci ha unito, ma il percorso continuerà anche nella progettualità una progettualità che ci vedrà sempre uniti e soprattutto con un amore condiviso come dice la Presidente Chiara per tutti quanti, quindi uniti per aiutare veramente chi ha bisogno e io chiedo di fare un grande applauso al Presidente, a tutto lo staff e a tutti i volontari che silenziosamente ogni giorno si adoperano per dare trucco e anche a Guido, a Giustaggio Cattoli che ogni giorno silenziosamente sta insieme a noi grazie a tutti e grazie a tutte le associazioni grazie a tutti